Via, via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, 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 good luck my baby, it's wonderful, 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 I'll remove you, chips, chips, dattidudidu, chibum, chibum, dattidudidu, chibum, chibum, dattidudidu, vieni via, vieni via con me, entri in questo mare buio, non perderti per niente al mondo. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo Salon di Fréjus, il 21e, la 21e edizione questa settimana. E noi, per la 5e anni consapevole, noi rappresentiamo le marco italiane su un stand di 500 m2. Le marco Fiat, Lancia e Alfa Romeo sono presenti in questo Salon, parmi 300 véhicules e quasi tutte le marco, e per la 1ere anno, un'innovazione. Abbiamo anche organizato il Salon di l'Occasione all'interno di questo magnifico spazio che è l'Espace Pagbo. Se io vi presento questo Salon, è perché il rappresenta bene la dinamica di nostra attrazione. Abbiamo stato il primo dell'organizzazione, il 21 anni, e poi ci siamo ancora, con nos equipi. C'è un rinnovato importante, per la famiglia, per l'esplazio, per l'esplazio, per l'esplazio, per l'esplazio, perché noi vi presentiamo questo giorno un nuovo ecran, avenue André-Léotard, un nuovo spazio, che vi presentiamo a una marca italiana, a loro rappresentazione, su un espace un po' symbolico per noi, perché in 1991, c'era la marca Citroën che è arrivata e che noi inauguravamo, il y a quasi 20 anni, giorno per giorno. Allora, io vi presento questa spazio, con Jean-François Bouteille, con nos equipi, spero che voi l'appreciate, spero che voi avete il stesso oio che noi, questo oio critico che ci ha permesso di avanti, e poi di concepire un prodotto che si vuole novato, che si vuole moderne, che si vuole e che si vuole a l'immagine di l'automobile d'aujourd'hui. Ma non c'è una inaugurazione questo giorno, ci sono due, abbiamo anche la chance di vi presentare un nuovo prodotto, il s'appelle certe Fiat 500, ma vi vedete che è molto differente, è soprattutto L, come long, L come large, L come, L come, vous allez l'aimer, allora profite bene, grazie molto. L come, vous allez l'aimer, allora profite bene, grazie molto. Musica Musica Bonjour, io sono Eric Deho, chef dei vente dei marci Fiat, Alfa, Lancia e Fiat Professionnel. Io manage una equipe di tre commerciati, qui sono Corine, Arnaud e David. Io vi fonde molto d'espoir in questo nuovo locale, che si rapproche di noi due grandi villi, Fréjus e Serafael. Io penso che tutto è pronto per la nostra successione, e abbiamo tutte le carte in basso. Buongiorno, io sono Vincen Gaubert, io sono responsabile pre-vente di Serafael Distribution Automobile. di Serafael, qui va vi presentare questa nuova entrizione. Un polo entrizione, c'è un accueil specializzato per le società, che fanno di la carrosserie, che fanno di la maintenance tecnica. Ci hanno voluto cercare i nostri clientele, i particolari, abbiamo visto, con Vincent Gaubert, ora facendo il polo entrizione del Capito. Buongiorno e benvenuti al polo entrizione del Capito. Io sono Olivier Louè, responsabile del magasino Pièces d'Erechange, e sono fiero di farvi vedere il nostro magasino, assuramente il più grande della regione e il più moderne. Su una superficie di 1000 m2 e di livello, c'è circa 10.000 rifiorensi Citroen e 5.000 rifiorensi Fiat che noi gériamo con una squadra di 4 magasini. Buongiorno, io sono Frédéric Blanc, sono responsabile del sito Capito. i nostri clienti sono essenzialmente liati a un servizio carrosserie e peinture, accompagnati da un servizio mecanico essenzialmente professionale. Buongiorno, io sono arrivato a un servizio carrosserie, e che abbiamo fatto la visita virtuale di nostri diversi attività, e vi l'avete terminata con l'attività Capito. c'est un outil moderno, performante tornato verso la riparazione carrosserieta che abbiamo fatto la conoscenza dei diversi interlocutori abbiamo visto che abbiamo la quasi totalità di stockage in pièces detachate qui è su place quindi a destino dei professionisti e anche un atelier di riparazione destinato a poterire e riparare le véhicule di nostri clienti si trovano nella zona o proximità e beh, spero che queste diverse visite vi hanno più spero che voi frequentere abbastanza rapidamente i diversi interlocutori vi avrete l'occasione di rencontrare i interlocutori che avete visto e vi ho spero una buona giornata e poi io vi direi a tutti la comedia di tua vita la comedia la comedia la comedia la 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione